Voi mi farete diventare scemo Voi mi farete diventare scemo Più di quanto non lo sono già adesso Grandi Grandi Guardate ci voleva veramente Un mago per fare una prestazione di genere Grandi ragazzi Giusto se si è perso Non ci si meritava mai di vincere Giusto se si è perso Come dei dementi quali siamo Come dei dementi quali siamo Giusto se si è perso in questa maniera Due minuti di buona Il novantesimo stai vincendo 2 a 1 Coglione di merda Coglioni di merda Vaffanculo Coglioni di merda Società del cazzo Società del cazzo Mi avete veramente rotto il cazzo Eh ma c'è il frigo pieno Eh ma la coperta l'è bella larga Eh ma c'è il frigo pieno Ma figurati Ma figurati C'è gente in campo di buono Che oggi non giocava nemmeno all'oratorio Zola 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 Grande Madonna ragazzi Io vi giuro guarda Io vi giuro Io vi giuro Devo sta zitto E devo staccare un posto di tanta roba Perché non voglio tagliare Non taglio come sempre E non posso di troppa roba Perché se no mi vorrebbe fare delle cose Non si possono di Non si possono di Grande imbalare Grande grande Perché aveva l'assistero dei fai nostri Non a quelli degli altri Grande grande Fenomeno Maxillopesso Maxillopesso è un altro fenomeno ragazzi Che con il sassuolo sembrava pisarro Invece con noi sembra Che cazzo Non lo so Uno veramente scarso Veramente veramente scarso Uno dei più scarsi della serie A Ragazzi siamo imbarazzanti Facciamo schifo Facciamo ridere Facciamo schifo E' giusto E' giusto E' giusto E' giusto E' giusto Ma si Ma figurati Porca puttana Ma figurati Ma figurati Ma figurati Perdere 3-2 con Lecce In rimonta Due golle negli ultimi due minuti Ma certo Grandi Fenomeni del calcio Fenomeni 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 del calcio Fenomeni Fenomeni Solo noi Siamo capaci Dio buono Di fare una roba di genere Di fare una roba di genere Sono fatto anche una tisana Non serve un calcio Grande Grande Bene Ora Tanto Di chi sono le maggiori colpe Di chi sono le maggiori colpe Di questo disastro annunciato Perché era un disastro annunciato Era Questa partita Era un disastro annunciato Il primo tempo Se non è stato chiuso 3-0 Per il Lecce E' letteralmente un miracolo Sceso in terra Perché Prendano due pali Un rigore negato Di così Praticamente Che poi tanto Viene realizzato Perché Non sappiamo fare la barriera Non sappiamo fare Non sappiamo fare La barriera Buonaventura E sottile Si allargano E passa Un pallone in mezzo Ma io 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 vi giuro ragazzi E' uno scherzo E' uno scherzo E' uno scherzo Perché Perché è uno scherzo ragazzi E' uno scherzo Te hai fatto Un punto Ho il Lecce Tra andata e ritorno Un punto Un punto Un punto Un punto T'ha fatto Ho il Lecce Tra andata e ritorno E t'ha subito Cinque gol Cinque gol Da Lecce Cinque gol Che spero che facciano Un grande campionato Perché se lo merita Sono una bella squadra Sono una bellissima squadra Allora A differenza nostra Sono una bellissima squadra Allora A differenza nostra Hanno La gente che sarta l'uomo Hanno un grande attaccante Perché Christovic E' un grande attaccante Hanno un grande portiere Che ha fatto Un'altra cazzata Che oggi Il loro portiere Ci stava Riregalando Una vittoria Come ha fatto Di Gregorio O in Monza Perché Beltrano Un'altra volta A sto giro Non ce l'hanno fatto Neanche vedere Perché chi ha visto La partita su Dazon Ehi Ce ne siamo accorti Dopo un minuto Che Beltrano Aveva segnato Perché Falcone Aveva fatto Il cosplay Di Di Gregorio Grandi ragazzi Grandi Ve lo giuro Guardate Questa Penso sia uno Dei punti più bassi Che abbia mai La partita di stasera Uno dei punti più bassi Abbiamo visto Della Fiorentina Da quando la seguo Cioè ve lo giuro Vincerà il novantesimo E perdere 3 a 2 In due minuti Contro il Lecce In due azioni Letteralmente Ve lo giuro Che Cioè da applausi Applausi ragazzi Roberto Piccoli E Dorgu Roberto Piccoli E Dorgu Il 2 a 2 Poi tra l'altro Fatto da un grandissimo Assist Di Imbalanzola Meno male ragazzi Ci sa un attaccante Forte come il 18 Guardate Meno male Che lo sei voluto Tanto Perché Imbalanzola Veramente Effettivamente Sono 12 milioni Ben spesi Effettivamente 12 milioni Ben spesi Complimenti 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 Per carità Oggi Potevi avere Chi cazzo volevi In campo La perdevi lo stesso Perché Perché l'ambiente È marcio L'ambiente È marcio L'ambiente È stato Marcito È marcito Da questa cazzo Di società Che non ha speso Niente Per quanto riguarda Le richieste Dell'allenatore L'allenatore Ti aveva chiesto Una cosa Una cosa sola E adesso È incazzato L'allenatore E fa bene Essere incazzato E si ripercuote Sulla squadra Questa cosa Perché oggi Vi ripeto Non ci si meritava Mai di vincere Noi Se si fosse vinto Questa sarebbe Stato Tre punti Veramente I più Immeritati Della storia Della Fiorentina In questa maniera È giusto E si sia perso È giusto Mi fa incazzare Per come si è perso Mi fa ridere Non mi fa incazzare Mi fa un sacco ridere Perché Lecce se lo meritava Dall'inizio Di vincere Noi ci si meritava Dall'inizio Di perdere E si è perso In una maniera Ridicola Ridicola Pigliateci per il culo Dovete prenderci Per il culo Perché noi Abbiamo una società Ridicola Una società Ridicola Che non accontenta Il proprio allenatore Nonostante una piccola richiesta Non gli ha chiesto L'allenatore Non penso che ti abbia chiesto Di prendere Vinicius Junior Di prendere Ronaldo Messi Casemiro Toni Kroos Ti ha chiesto Di prendere un esterno E te non gliel'hai preso Non gliel'hai preso Non gliel'hai Non gliel'hai preso Non gliel'hai preso Non gliel'hai preso Non gliel'hai preso Siamo tutti incazzati Chissà come mai Siamo tutti stronzi Siamo tutti incazzati E l'allenatore è incazzato Stronza anche lui Complimenti Complimenti a tutti Grandi ragazzi Siamo tutti incazzati